Buongiorno a tutti, eccoci qui in un nuovo video sui pavoni ingrifati e su una nuova rubrica che è la rubrica della nostalgia, cioè una rubrica che riprenderà alcuni vecchissimi giochi, anzi non troppo vecchi, ma comunque che hanno avuto un ruolo importante e che hanno segnato la mia infanzia. Uno di questi è sicuramente Scudetto 4, o anche chiamato Championship Manager 2003-2004. È un gioco di calcio, è un football manager possiamo dire, ovviamente gli appassionati di calcio e di videogiochi lo conosceranno benissimo e volevo giocare proprio a questo gioco per il fatto che 1. sono un grande appassionato di calcio e 2. perché i miei giocatori preferiti si trovano proprio in questi anni, cioè tra il 2000 e il 2007. E quindi siamo qui alla scelta della squadra, che sarà del tutto casuale. E ovviamente però ci sono dei limiti, sarà una squadra italiana o di serie A o di serie B. E sarà casuale appunto, ovviamente il gioco non permette la scelta casuale della squadra ancora, è un gioco abbastanza vecchio, e quindi lo farò io manualmente, facendo così col mouse senza guardare. Sampdoria? Sì, Sampdoria. Allora, la scelta della squadra è la Sampdoria. Del tutto casuale, vi giuro, non l'ho fatto apposta, non sono neanche tifoso della Sampdoria. Quindi possiamo andare con la Sampdoria, che mi sembra una buona squadra. No, non lo so, in quegli anni, beh, guardate che giocatore, Flacchi e Bazzani, Flacchi e Bazzani, fate un po' voi. Siamo pronti quindi con la Sampdoria, accettiamo l'incarico, Pavoni di Grifati, Sampdoria, e andiamo quindi a Genova, a Luigi Ferraris, a giocarci queste nostre partite. Vediamo un po' se siamo in qualche competizione, non lo so, come è arrivata l'anno scorso la Sampdoria, vediamo se possiamo vederlo, no, non possiamo vederlo, non mi ricordo assolutamente. Serie B italiana, A arriva dalla serie B, che ignoranza, non me lo ricordavo, quindi siamo la neopromossa, quindi non sarà per nulla facile, siamo quindi, andiamo un po', basta vedere gli obiettivi. Conquistare con Grintal per una menza in serie A, abbiamo 3 milioni e mezzo da spendere e cercheremo di spenderli. Ora vediamo un po' la squadra, allora abbiamo sicuramente Antoniole e Turci, due portieri che penso che ci possiamo fidare, altri giocatori sicuramente che vedo soltanto per i nomi, non so effettivamente le loro statistiche in questo gioco, perché la Sampdoria non l'ho mai usata. Vedo che c'è comunque Domizzi, che penso che sia buono, anzi buonissimo, poi faremo sicuramente anche la formazione, intanto vediamo un po' così in generale. Domizzi, Palombo che c'è ancora, che c'è ancora, che c'è, che penso che sia appena arrivato, appunto 21 anni, da soltanto due anni nella Sampdoria. Volpi, Simone Volpi, eh sì, Sergio Volpi, grandissimo, anche ex Bologna poi, ricordiamocelo. Luca Antonini, un ex Milan, poi Genoa, che poi è segnato anche in un derby contro la Sampdoria, che è nostro in proprietà, mi sembra che sia in proprietà col Milan, appunto. Flacchi e Bazzani non hanno bisogno di presentazioni, Doni, Cristian Doni, che poi sappiamo degli scandali con l'Atalanta, Yana Gisawa, velocissimo, mi sembra, invece non troppo, ma non mi piace molto come giocatore, Job invece lo amo, Thomas Job, ma 18 anni, può crescere molto bene, altri giocatori, un po' Marazzina anche, non male, La squadra non mi sembra così male, ora penserò a una formazione e vediamo un po' quali sono i reparti che hanno più bisogno di qualche innesto. Ecco, fatto una bozza di formazione, soltanto così, iniziale, non è detto che useremo questa, 4-4-2 è banalissimo, eh, però ovviamente in quegli anni andava molto, molto di moda il 4-4-2 classico, anzi andava di moda anche il rombo come il Milan di Ancelotti. Comunque, questo è il nostro 4-4-2, ho visto un po' tutti i reparti e devo dire, Francesco Antognoli ce lo teniamo, non penso che abbiamo bisogno di un altro portiere. La difesa non è male, non è male, ma Domizio, ad esempio, che è uno dei nostri difensori più forti, come potete vedere dalle statistiche in contrasti, in colpi di testa e marcatura, che sono davvero altissimi, anche cross alto, quindi può fare il terzino, però appunto lo vedo più, guardate il fisico, elevazione 20, forza 20, resistenza 20, velocità 17, accelerazione 19, mi sembra, da 23 anni, eh, mi sembra uno dei difensori più forti, no, sicuramente il difensore più forte della squadra, e metterlo come terzino sinistro forse è sprecato, non lo so, secondo voi? Poi abbiamo Grandoni, invece, che è il punto, Grandoni e anche Falcone, anzi, Falcone penso che sia ancora più scarso, no, sono abbastanza simili, anzi no, Giulio Falcone mi sembra che sia proprio un difensore tradizionale, con contrasti 16 e marcatura 18, fisicamente buono, quindi va benissimo, è Grandoni il problema, che non ha nessuna statistica o comunque parametro di alto livello, e può giocare solo centrale, quindi o troviamo un altro centrale o troviamo un terzino sinistro, questo è l'obiettivo. A centrocampo va benissimo così, abbiamo tantissimi giocatori con cui possiamo scambiare, avere diversi tipi di formazione, a centrocampo non c'è nessun problema, perché abbiamo molti giocatori ambidestri, soprattutto ben due, questo Valtolina che non avevo mai sentito, a cross 20 e ambidestro, quindi come ala va benissimo, velocità 20, agilità 20, fate un po' voi, e Flachy Bazzani, vabbè, l'attacco è a posto, anzi, probabilmente dovremmo vendere qualcuno, o magari compare anche un altro attaccante di futuro, per un futuro, visto che Flachy ha 28 anni, non è vecchissimo, Bazzani ha 26, quindi sto dicendo cazzate, sono abbastanza giovani, ma magari un giovanetto da mettere così di fianco potremmo trovarlo, perché non mi figlio troppo di Thomas Job, anche se ha dribbling 18, mi sembra più quasi una seconda punta, che è una punta centrale. Quindi, ora vedremo un po' il nostro calcio mercato, siamo già qualificati alla Coppa Italia forse, perché non vedo partite di Coppa Italia, o magari devono essere ancora organizzate, comunque ci ritroviamo per il calcio mercato, e magari per vedere queste prime amichevole come sono andate. Ecco qui la formazione che molto probabilmente si giocherà a questo campionato, e abbiamo, diciamo, appena finito un acquisto molto importante per me, è un mio pupillo che non potevo non mettere, che è il signor Anatoli Todorov, 18enne, ma se guardate già le sue statistiche sono incredibili, come la sua finalizzazione sia 19, il dribbling 17, per un 18enne è davvero qualcosa di davvero incredibile, 18enne, appunto, stavo dicendo, acquistato per 2 milioni secchi dal Litex, con uno stipendio base bassissimo di 75 mila euro all'anno, se andiamo a vedere la nostra rosa, i giocatori con lo stipendio più alto è 1 milione e 8, e quello più basso è 24, comunque anzi 70, diciamo perché Calu e Fonseca non fanno parte della rosa, quindi Todorov è il secondo giocatore che guadagna di meno, ma sarà probabilmente uno dei titolari, quindi ottimo acquisto, mi sono accorto anche che Zivkovic, che ora ha anche una stellina, può benissimo essere un buon terzino sinistro, anche se dalle sue qualità sembra molto offensivo, e anche dal ruolo che fa, visto che è un difensore trequartista, cioè saltiamo dal difensore al trequartista senza passare dal centrocampo, probabilmente giocheremo con un 4-4-2 molto semplice, come vi ho detto all'inizio, con quindi Antonioli in porta, Zivkovic a sinistra, Domizzi, Falcone a centrocampo, a centrali, e Zenoni a destra, a centrocampo da sinistra a destra, Valtolina, Palombo, Doni e Diana, quindi molta fantasia a centrocampo, e anche dei bei killer o dei bei mastini per proteggere questo centrocampo con Palombo, in attacco un Flachy Todorov, o magari un Flachy Bazzani, o magari un Todorov Bazzani, comunque questi qua saranno i giocatori che gireranno, ho ridato, ho terminato il prestito di, non mi ricordo più, prestiti finiti, come possiamo dire, prestiti dovuti? No, comunque di un giapponese, che non mi viene il nome, che guadagnava come un top player, Emelon era un top player, quindi era inutile tenerlo, ho ceduto nessuno, mi ho dato il prestito invece, e Bettarini, Stefano, se vi ricordate benissimo chi è, più un modello tipo la Coco, ma ancora più scarso di Coco, che comunque ha i suoi buon anni, li ha fatti, che comunque non è anche così male, Bettarini è nato a Como, in Serie B, quindi buon per lui, e mi sono accorto ora poi che nelle squadre di riserva abbiamo delle chicche, come oltre a Bettarini, abbiamo anche Cacciatore, 16enne, che sapete benissimo chi è Cacciatore, che è molto, diciamo, famoso per le sue esultanze dopo i gol, di qua difensore destro nasce, che poi sarà però spostato centrale, contatto non protetto ancora, ma forse perché appunto è minorenne, non c'è ancora bisogno di fargli firmare un contratto, quindi questa sarà la formazione probabilmente che inizierà il campionato contro la regina, a Reggio Calabria, abbiamo giocato tre partite di amichevole contro il padre, abbiamo perso clamorosamente al novantesimo, però ci può stare perché il Padovan è in Serie C, ricordiamolo, però la formazione è un po' così, messa un po' alla cavolo, poi appunto con l'Arezzo e contro questa squadra con il nome impronunciabile della Serbia Montenegrina, abbiamo vinto 2-0, 2-0 con i gol dei due soliti, Flachi Bazzani e ancora Flachi Bazzani. Ora per un'altra squadra con un nome davvero impronunciabile, sempre della Serbia, e poi ci sarà un'altra squadra, perché dobbiamo giocare tutte, vi facciamo la tournée in Serbia probabilmente, sì esatto, tournée in Serbia, 4 partite in Serbia, per poi andarci a giocare la Serie A. Ci ritroveremo quindi per la prima giornata di Serie A, se avete consigli per gli acquisti o consigli per la tattica, ditemi pure questa è la tattica, questi sono i giocatori, guardatevi lì bene, ditemi voi se ne conoscete altri che possono fare il caso mio, ci vediamo per l'inizio della Serie A, ciao a tutti!